Bene, vediamo i risultati delle partite non comprese nel servizio di schino e la classifica della serie B. Bari-San Benedettese 0 a 0, Cesena-Ternana 1 a 0, Palermo-Matera 3 a 0, a Parma-Sandoria-Parma 1 a 0. Classifica della serie B. Como-Geno-Emonza 5 punti, Palermo-Verona-Sandoria-Lecce 4, Bari-Cesena-Pistoiese-Matera 3, Atalanta-Brescia-Spal-Taranto-Parma-Pisa-Ternana e la Norossi-Vicenza 2, San Benedettese 1. Infine, le due nobili decadute e ancora parecchio affaticate, Vicenza e Atalanta. Vantaggio Vicentino col difensore Miani dopo un'insistita azione su calcio d'angolo dalla destra. Ecco il calcio d'angolo che verrà battuto, verrà battuto corto come vedrete. Pallone sul centro, la difesa si imbambola un po', la difesa dell'Atalanta. Ed ecco il gran tiro di Miani ed è il gol. Pareggerà un altro difensore, il vecchio Vavassori, con un tiraccio su Astrid. Di festa, ecco il tiraccio. Nella giornata i gol sono stati 12 e molti sono stati degli uomini delle retrovie. Che sia calcio totale?